Sulla questione della riduzione dell'attare 2020 per le utenze non domestiche, dite commerciali, pubblici esercizi e artigianali che a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 abbiano dovuto sospendere l'attività durante il lockdown, interviene Tonino Mura, decano dei baristi nuoresi e vicepresidente provinciale della FIA Pette Confesercenti che sul tema ha scritto una lettera al sindaco di Nuo, Andrea Soddu, in cui ricorda di aver presentato un'istanza di riduzione tre mesi fa e chiede se l'amministrazione comunale abbia preso dei provvedimenti in materia. Mi sembra infatti, scrive Mura, che la richiesta sia più che giustificata dal fatto che le utenze non domestiche che rientrano tra quelle sospese a seguito dei vari DPCM e ordinanze regionali che a partire dall'8 marzo si sono susseguite a lungo non hanno prodotto rifiuti, contribuendo al loro malgrado ad una riduzione importante della produzione e quindi dei costi di smaltimento. Inoltre, la riduzione di produzione si protrae ben oltre il periodo di chiusura forzata, considerato il fatto che, soprattutto per i pubblici esercizi, salvo casi eccezionali, le vendite restano ben al di sotto del periodo precedente all'emergenza. Il vicepresidente Mura chiede al sindaco Soddu che la tassa dei rifiuti venga ridotta con l'azzeramento della parte variabile per il periodo in cui l'esercizio dell'attività è stato obbligatoriamente sospeso e con una riduzione del 60% per il secondo semestre 2020 dei costi direttamente imputtabili e proporzionali alle quantità prodotte dei rifiuti.